Ciao a tutti ragazzi, qui Ritro nel vostro Gabichu e qui siamo ritornati nel nuovo video E oggi siamo su Ultrasole E allora perché non c'è la Nintendo? Beh, questo episodio non parla proprio... cioè, non faremo di gameplay Non ci sarà nessun altro episodio di Pocahontrasole Ma perché? Perché finisco la serie qua Ora vi spiegherò tre semplici motivi per cui non faccio più la serie Scusate Primo motivo E comunque, prima di iniziare ad elencarvi tutti i motivi Vi ricordo, come è lo solito, di lasciare un sacco di mi piace Questo però non consideriamolo un video tanto importante Però lo dico per smettere la serie Quindi, chi volesse non è obbligato a lasciare dei mi piace Perché è soltanto un semplice video dove spiego perché la smetto di giocarla sul canale Allora, ok, però chi volesse lasciare dei mi piace mi farebbe un favore Comunque, ora vi elencherò questi tre motivi Primo motivo Che è in pratica quel ragazzo, che non mi ricordo il nome Che mi ha scritto in un commento, in qualche episodio di Pocahontrasole Che non voleva più la serie, ma perché non ne riesce a capire quando parlo durante i video Questo perché soffre a volte problemi d'asma e quindi non riesco a parlare bene Oppure tossisco, eccetera Però non è niente di grave Comunque, un altro semplice motivo è che in pratica Quest'estate sarà un pochino, come dire Un pochino traballante Perché farò diversi viaggi Prima, se non erro Verso i primi di giugno Partirò per l'ecco E poi tornerò Tornerò a luglio Quindi starò un mese intero Poi quando sarò tornato Verso il 15 partirò a Nicolosi Fino al 17 E poi il 29 Partirò luglio Partirò, sì, infatti il 29 A Torino A trovare i miei nonni Però non so la data di ritorno Quindi Non ci saranno molti video quest'estate Quindi non aspettatevi Sfacchettamenti Pocahontrasole Visto che non la faccio più Acquisti Pocamon A proposito degli acquisti Verso quando tornerò da l'ecco E cercherò Dico cercherò Di fare un video Dove mostro Dove, sì Mostro gli acquisti Che mi sono arrivati a giugno A maggio Infatti a giugno ora Mi devono arrivare una valangata di cose Però Poi ve le mostrerò infatti Quindi sto dicendo Non ci saranno più video Ne acquisti Pocamon Come avevo già detto Regali a Gabriciu A proposito Regali a Gabriciu Non ci saranno Perché è un semplice motivo Non ci saranno Durante quest'estate Dico Giugno Luglio E agosto Fiere Quindi Credo che Ce ne sarà una Verso settembre Mi dispiace Però Sarà così Perché Voglio fare questi viaggi E Voglio Un pochino Visitare L'Italia Cioè Il posto A cui appartengo Ultimo motivo Se volete veramente Saperlo Pochino Ultrasole Avrei voluto Giocarlo Per conto mio Ma l'ho portato sul canale Per vedere Se avrei avuto più successo E in effetti Da 19 iscritti A 33 È già una gran cosa Però Dico Non sono tanti Però poi vedrò Se riuscirò Ad averne di più E quindi Avrei voluto Giocare Pochino Ultrasole Per conto mio Quindi A questo punto Possiamo considerare Questo come L'ultimo episodio Di Pochino Ultrasole Tra virgolette Ovviamente E non importa Poi la serie Non preoccupatevi Che la gioco Se no Cazzo mai L'avrei ridata Al game stop Se non mi fosse piaciuto Però è un bellissimo Gioco E ovviamente Lo finirò Tutto Al 100% Però Ho detto A quello ragazzino Quello che mi ha scritto Nei commenti Che non voleva Che facessi più La serie Che avrei portato Anche il gameplay Di Kirby Questo sarebbe vero Però Devo organizzarmi Detto ciò Possiamo concludere Questo breve video Che Non credo Che sia Molto importante Però dico Per chi volesse Informarsi Lo vera Se no Lo elimina E basta Io l'ho fatto Per chi volesse Sapere Che finisco La serie Poi In tal caso Qui Nei commenti Scriverò La stessa cosa Così Siete informati E chi volesse Vedere tutto il video Se lo veda Tanto dura Quanto siamo 5 minuti E qualcosa Quindi non è troppo Quindi Ci vediamo Quando ci vediamo E nient'altro Lasciate Tanti mi piace Non per forza Io A me Farebbe piacere Se ne lasciaste Un po' Però nient'altro Iscrivetevi fuori Al canale Questo è importante E noi Ci vediamo Non so quando Ciao